Preparatevi a scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle in questo bellissimo giorno. Che siate alla ricerca di consigli, ispirazione o semplicemente curiosi di sapere cosa prevede il vostro segno, siete nel posto giusto. Segno a liete. Giovedì sarà una giornata all'insegna della normalità. Con un piccolo sforzo, potrete riportare la serenità nella vostra relazione e ristabilire l'equilibrio con il vostro partner dimostrerete abilità nella gestione di una situazione che sembrava senza speranza. Se siete single, rompete la monotonia e concedetevi una giornata di relax e divertimento. Organizzate una serata piacevole a casa vostra, magari con amici cari, godetevi la compagnia e lasciatevi andare. Siate più riflessivi e meno impulsivi, approfittate dell'occasione per divertirvi a pieno. Un approccio ponderato al lavoro vi aiuterà a risolvere le questioni in modo più rapido e con meno sforzo. Mantenendo questa mentalità, tutto si risolverà positivamente. Molti pianeti sono attualmente nel vostro segno, il che rende questo un periodo ideale per agire e risolvere questioni rimaste in sospeso. Il cielo è favorevole per coloro che hanno un progetto in corso o desiderano affrontare una sfida dopo un periodo faticoso, è bello poter finalmente sorridere. Avrete emozioni extra da coltivare, e sarà più semplice recuperare la forza necessaria. Segno Toro Questo giovedì sarete pervasi da un'energia positiva che potrete trasmettere alla vostra relazione, incoraggiando la partecipazione attiva del partner. Con l'influenza favorevole di Venere, ci saranno opportunità molto interessanti in amore, quindi godetevi le emozioni e concedetevi momenti di relax con la persona amata. Se siete single, un clima di ripresa generale vi coinvolgerà, anche a livello interiore, le piccole ansie cominceranno a dissolversi. Prevedete un po' di tranquillità. Anche sul fronte lavorativo, con le stelle favorevoli, potrete mettere in gioco intelligenza e creatività per affrontare le sfide quotidiane. Ogni ostacolo sarà un'opportunità per dimostrare le vostre capacità e contribuire al successo. State attraversando una fase di grande rigenerazione, pallontanate dalla vostra vita coloro che non sono stati fedeli. Mettete a posto ciò che è stato destabilizzato nel mese di marzo. Molti potrebbero non avere abbastanza tempo per completare i propri progetti, rischiando di diventare molto nervosi, ma con pazienza e con giove nel vostro segno, potrete fare qualcosa in più. Se una storia ha attraversato una crisi, sarà necessario avere il coraggio di ricominciare da zero, mentre se la relazione è irrecuperabile e non vi fa più stare bene, è meglio dire basta direttamente. Al momento, favoriti sono i rapporti part-time. Segno gemelli. State vivendo giornate particolarmente intense, soprattutto in amore, quindi dovrete prestare molta attenzione a ciò che dite e fate. Convenere in arrivo nel vostro segno, le cose si calmeranno un po', regalandovi una tregua. Tuttavia, date le circostanze, è importante chiedersi, cosa è successo nelle ultime tre settimane. Evitate di prendere tutto troppo personalmente, poiché non è il momento adatto per reagire in modo impulsivo, qualcuno potrebbe avervi fatto arrabbiare, ma è importante risolvere il problema anziché allontanarvi ulteriormente. L'oroscopo del 4 aprile promette un giovedì positivo. Le stelle vi offriranno una guida preziosa per comprendere meglio la dinamica di coppia e migliorare la vostra relazione. Sarete sorpresi e fiduciosi riguardo ai segnali del partner, rafforzando il legame e vivendo appieno ogni momento insieme. Se siete single, potrebbe essere il momento di scoprire se c'è più di un'amicizia con la persona che vi interessa. Trascorrete del tempo insieme, osservando comportamenti e reazioni per capire se c'è affinità. La luna vi aiuterà a gestire con precisione attività lavorative che vi hanno dato qualche grattacapo. Procedete senza timore di errori. Segno cancro. La prima parte di aprile potrebbe non essere eccezionale, probabilmente a causa di preoccupazioni maggiori o di incertezze su come procedere. In questo caso, è meglio riflettere attentamente anziché agire in modo impulsivo. Eventuali accordi potrebbero subire ritardi a causa di venere e dispettosa. Tuttavia, se riuscirete a superare questo periodo difficile, la seconda metà del mese si prospetta fruttuosa e vantaggiosa sotto diversi aspetti. Passione e sentimenti in aumento. Le coppie sperimenteranno giornate piene di eccitazione e gioia, con molte opportunità di divertimento e progettazione del futuro insieme. Avrete un'energia straordinaria da canalizzare in attività condivise, approfondendo la conoscenza reciproca. Se siete single, le cose dovrebbero andare bene, specialmente in amore. Non ignorate l'attrazione per quella persona speciale e lasciatevi trasportare dall'emozione e compassione. Se siete particolarmente motivati nel lavoro, sfruttate questa predisposizione per ottenere risultati anche a livello economico. Segno leone. Tornate a essere i protagonisti indiscussi dello Zodiaco con diversi pianeti favorevoli, Marte, Venere e il Sole in cima. Vi aspettano sfide da affrontare e non vi mancherà né la forza né il coraggio per trionfare. Le coppie di lunga data si troveranno di fronte a una scelta da compiere o a risolvere un problema. Nuovi amori molto intriganti potrebbero emergere, anche come alternative a relazioni che non vi soddisfano più e quindi sarebbe meglio chiudere per il bene di tutti. La presenza della luna in acquario potrebbe generare confusione nei vostri pensieri in questo momento, spingendovi a confrontarvi con paure e insicurezze. Tuttavia, ricordate che condividere i vostri sentimenti con il partner può creare un ambiente di supporto, consentendovi di affrontare insieme le sfide personali e rafforzare il legame. Se siete single, cercate di trovare la forza interiore necessaria per affrontare ogni situazione con determinazione. Mantenete la calma anche durante i momenti più frenetici, mostrando fiducia nella vostra capacità di superare qualsiasi ostacolo. Se vi trovate di fronte a una situazione delicata sul lavoro, non esitate a chiedere aiuto ai vostri colleghi. Segno Vergine L'oroscopo di oggi, 4 aprile, promette un periodo particolarmente positivo. Le coppie troveranno nuove attività da svolgere insieme, magari legate alla famiglia o al futuro. Saranno momenti di grande gioia, dove l'affetto e l'amore saranno fondamentali. Per i single, potrebbe arrivare una piacevole sorpresa, un ammiratore segreto potrebbe decidere di farsi notare con gesti romantici, come un fiore e un bigliettino nascosti nel parabrezza dell'auto, regalandovi un sorriso e un po' di felicità. La fortuna vi sorride anche sul fronte lavorativo, quindi affrontate il periodo con serenità e fiducia nell'ottenere i vostri obiettivi entro i tempi previsti. Potete prendere decisioni con grande determinazione in questo momento, anche se potreste sentirvi un po' in giù di tono verso sera, sarà sufficiente riposare ed evitare lo stress. Questa settimana potrete pianificare gli eventi con più calma, ma Marte in opposizione potrebbe rendervi ansiosi e nervosi, magari a causa di pressioni esterne che vi mettono in difficoltà e non sempre è possibile mantenere i ritmi abituali, il che potrebbe agitarvi insieme al sentirvi in situazioni scomode. Ad esempio, potreste essere chiamati a esprimere un'opinione senza avere le idee chiare, in tal caso sarebbe meglio tacere e rimandare le decisioni ai prossimi giorni. Segno bilancia L'oroscopo di giovedì anticipa un periodo non particolarmente favorevole per voi. Non accettate proposte a cui non aderite pienamente e seguite il vostro istinto senza farsi influenzare dagli altri. Sul fronte professionale, affronterete questioni delicate che richiederanno massima attenzione e concentrazione. Per quanto riguarda la sfera privata, se siete single, potreste valutare diversi potenziali partner senza trovare nessuno che vi conquisti veramente. Non esitate a chiedere supporto se ne avete bisogno e evitate di affrontare tutto da soli. È importante evitare le persone invidiose che potrebbero ostacolarvi. Ascoltate il vostro istinto e procedete con fiducia, evitando di scaricare la tensione sugli altri in caso di insuccesso. Una nuova configurazione astrologica caratterizzata da opposizioni planetarie e qualche conflitto, va alla fine, apprezzerete questo periodo poiché, nonostante qualche scontro, riuscirete a liberarvi di pesi e fardelli. Inizialmente potrebbe essere doloroso, ma col tempo noterete i miglioramenti che questa scossa porterà con sé. Ora potete liberarvi di situazioni preoccupanti o che vi limitavano, favorendo un futuro promettente e un orizzonte ricco di opportunità. Novità in arrivo verso la fine del mese. Segno Scorpione. Non lasciatevi abbattere. Anche se al momento ci sono delle difficoltà, la seconda metà di aprile porterà nuove opportunità e soluzioni interessanti. Un comportamento altalenante potrebbe confondere le persone intorno a voi questo giovedì, che siano amici, familiari o colleghi. Tuttavia, per emergere dalla situazione, potrebbe essere più utile affidarsi all'astuzia piuttosto che al fascino e alla sensualità. In ambito sentimentale, se vi sentite troppo ansiosi, potrebbe essere utile mantenere una certa distanza e razionalità nelle azioni e nei rapporti interpersonali. Nel prendere decisioni di coppia, se il vostro partner vi infastidisce, guardate la situazione con chiarezza o semplicemente non date troppa importanza, poiché potrebbe non essere il momento adatto. Se siete single, potreste sentirvi irritabili e avere ragioni valide, qualcuno potrebbe seminare confusione nel vostro ambiente. I familiari potrebbero richiedere un maggiore coinvolgimento da parte vostra. Sul fronte lavorativo, se siete lavoratori autonomi, prestate particolare attenzione all'organizzazione e alla pianificazione dei progetti. Segno sagittario L'oroscopo del 4 aprile prevede che il sole avrà un impatto positivo sul vostro segno, portando con sé un'energia vitale e un senso di protagonismo che porterà un tocco di positività e sprazzi di fortuna. Avrete una grande vitalità e l'opportunità di mostrare appieno il vostro spirito altruistico. Approfittate di questa energia per trascorrere momenti felici con le persone care. Se siete single, incoraggiati dalle stelle, tornate alla ricerca attiva dell'amore. Sentendovi ammirati, acquisirete maggiore fiducia in voi stessi e la vostra autostima raggiungerà nuovi livelli. Con l'avanzare della primavera, nuovi progetti entusiasmanti si presenteranno e non vedrete l'ora di realizzarli. Nel mondo del lavoro, le intuizioni rapide e brillanti ispirate dalla luna saranno preziose. Preparatevi a pianificare nuove iniziative e ad adottare nuove strategie. Il cielo attuale favorisce l'amore e i sentimenti in generale, le esperienze che state vivendo in questo momento saranno cruciali e vi saranno utili per il futuro. Grazie alla nuova posizione di Venere, avrete la possibilità di superare eventuali crisi o rinegoziare accordi in modo più favorevole. Le prossime giornate si preannunciano produttive, quindi non lasciate sfuggire alcuna opportunità e cercate di non affrontare le situazioni impulsivamente senza prima riflettere sulle vostre azioni e parole. Segno Capricorno Un periodo favorevole ai sentimenti si prospetta, valorizzando non solo le relazioni affettive ma anche i rapporti interpersonali. Con la luna in acquario pronta a brillare sul vostro segno, il mese appena iniziato proseguirà in sintonia con le vostre aspettative e desideri. Tuttavia, state attenti a non essere troppo ingenui per evitare confusioni che potrebbero ostacolare i vostri impegni. In questo periodo, l'amore sarà il vostro rifugio offrendovi momenti speciali da vivere con chi amate. Sul fronte lavorativo, sarà importante adottare una mentalità flessibile verso colleghi e situazioni. Affrontate le situazioni importanti con un approccio più rilassato, consapevoli che potrete raggiungere i vostri obiettivi in questo modo. State attraversando un periodo di decisioni importanti, ma attenzione, non tutte le risposte arriveranno prontamente e molte delle vostre scelte dipenderanno anche da fattori esterni. Anche se desiderate agire tempestivamente, potreste dover aspettare il tempismo degli altri, causando ritardi e slittamenti. Gestire questa fase non sarà semplice e dovrete fare attenzione agli intrecci con vergine e cancro, che potrebbero portare a preoccupazioni involontarie. Inoltre, mostrate vicinanza a chi non sta bene, perché anche un gesto così semplice potrebbe fare la differenza. Segno Acquario L'oroscopo quotidiano vede con favore la presenza della luna nel vostro segno, infondendovi fiducia. Il vostro partner potrà chiedervi consigli, contando sulla vostra saggezza derivante dall'esperienza e dalla maturità interiore. Se siete single, una ventata di positività solleverà il vostro spirito e vi metterà in contatto con chi condivide i vostri ideali. È il momento di ascoltare i veri amici, pronti ad aiutarvi nelle decisioni. In amore, siate fiduciosi, indipendentemente dalla situazione. Sul fronte lavorativo, la vostra intuizione e logica vi guideranno a ottime idee, mantenendo alta la concentrazione. Attualmente, la luna nel vostro segno vi infonde positività e il desiderio di esprimere amore e risolvere questioni irrisolte. Nella vita di coppia, sarà fondamentale pazienza e comprensione, altrimenti l'influenza di questa energia positiva, a cui si aggiungerà presto venere, sarà vanificata. Approfittate di questo bonus energetico e non sprecatelo in questioni banali o inutili. Sul fronte lavorativo, si prospettano opportunità interessanti per il futuro, cogliete al volo queste possibilità o sfruttate i favori planetari per avanzare richieste. Segno pesci L'oroscopo del 4 aprile promette un periodo stabile, ma influenzato dalla normalità. Dovrete decidere se dedicare tempo agli amici, al partner, ai figli o a voi stessi, anche considerando gli impegni lavorativi o imprevisti. In amore, cogliete le opportunità di momenti speciali con il partner. Quando siete sereni, potreste indulgere in eccessi culinari, cercate di moderare. In questo periodo, sarebbe saggio risolvere conflitti e chiarire le vostre ambizioni lavorative. Con la luna nel vostro segno, a partire dal 5 aprile, avrete un'intuizione eccezionale e un'estrema sensibilità, ma fate attenzione a possibili disaccordi con genitori, figli o parenti. Ci sono questioni da rivedere, il cui significato varia da persona a persona, ma entro la fine del mese potrete ottenere un grande successo personale, sperimentando la soddisfazione e l'emozione del riscatto dopo tanto impegno.